Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Oggi vi farò l'unboxing del pacco di Iron Man Quindi apriamo subito e vediamo il contenuto del pacco Allora ce ne ho un altro e poi ho finito Iron Man Dopo devo aspettare che mi arrivi Allora abbiamo il numero E si chiude questo Abbiamo il numero Adesso ve lo faccio vedere meglio 36 di Iron Man Poi abbiamo il numero 34 di Iron Man Cioè è dal numero 33 al numero 36 se non ho sbaglio Poi abbiamo anche il numero 37 Ok 37 E il numero 35 Adesso ve li faccio vedere meglio Poi abbiamo ricevuto come vi ho detto Questo Adesso recupero la base Senza la base Che si sono dimenticati Di portarmi la base Io ho ricevuto praticamente solo il fogliettino Della base Quindi nell'altro pacco che ho adesso Che è l'ultimo Ho ricevuto invece la base Quindi lo recupero e poi ve lo faccio vedere Questi sono i fascicoli di Iron Man Che ci hanno dato in dotazione Nel pacco Quindi abbiamo il numero 36 Numero 37 Numero 35 All'incontrare E numero 34 Quello già l'atti Le ho Manca solo il montaggio Poi ho finito Allora Questi li vedremo insieme Quando monterò i passi E la base Quindi il numero 4 della base Qui non ho più basi Quindi al numero 3 uguale numero 4 Che vi faccio vedere subito Ce l'ho qua sotto Vedete che sono uguali identici Questi numeri 2 E li devo aspettare fino a che non finisce Perché è tutto attorno alla base Questi qua Quindi sono sempre i stessi soliti montaggi Quindi la base lo farò Quando riceverò tutti i componenti della base Di questo Uguale a questi Ce n'è fino al numero 7 O numero 8 dell'invio Cioè dell'invio Dei fascicoli Sono al numero 4 Della base Ecco 5 6 7 8 E ne mancano 4 4 o 3 Di base Intendo E no Adesso vedremo meglio nel dettaglio I componenti Il pacco Che Il pacco è qua Cioè non c'è nulla dentro il pacco C'è solo il bollettino che poi ho già pagato E allora Qua ci sono i 4 numeri Presenti che vi ho già fatto vedere E poi abbiamo risolvuto Questo della base Nel precedente pacco Che vi ho detto Senza la base Vedete Qua fanno vedere che è il secondo passo Quindi ci sarà Terzo Quarto Terzo che ce l'ho già Quarto Quinto Sono 3 numeri Quindi mi manca 5 Il 6 E il 7 Il prossimo mese che lo ordino Quindi 5 6 E 7 Ok A breve Ce la farò A comprare Allora Numero 37 Come potete notare Ok Che è plastica Qui abbiamo Numero 34 Anche questo Tutta plastica Con delle viti E proverò i nuovi cacciaviti Che vi ho fatto vedere Questi qua Datevi a vedere il video precedente Cioè il video Che ho fatto per l'Orient Che vedrete questi cacciaviti qua Molto molto carini Molto piccoli Ho fatto la recensione Una mini recensione L'abbiamo a parte insieme E li proverò E li testerò In un modellino Numero 36 Quindi è plastica però Abbastanza pesante Forse c'è anche del metallo E numero 35 Sai che siamo Quasi Arrivati Al numero 40 Il prossimo video Arriva al numero 41 Ok Quindi abbiamo questi Quattro numeri qua Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi qua sotto Al mio canale Commentate E attivate la campanella Per le notifiche E mettete un bel like Al video Se il video Sempre vi è piaciuto Quindi vi lascio Con questa bella Immagine Con questa bella figura E ci vediamo Al prossimo video Scusate Perché è durato Poco il video Ciao a tutti Al prossimo video Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti